Ciao a tutti ragazzi, sono Sandia Lopez e benvenuto di qui in questo nuovissimo video Oggi ragazzi, più tardi, io ho fatto questo video solo per avvisarvi Perché più tardi noi andremo a fare Halloween, case per case Ma lo scherzo sarà diverso, non è uova e farina, lo scherzo, ma un altro scherzo Sì, è anche uova e farina, però un altro scherzo che lo aggiungo io Ragazzi, non ve lo svelo, l'altro scherzo perché lo scoprirete dopo nel video Che farò quando staremo per strada, perché questo è un vlog Allora ragazzi, mi raccomando, scusate per il video che è breve ragazzi Scusate perché ho fatto solo questo video per avvisarvi Mi raccomando, continuate a spolliciare, mettete mi piace, condividete E soprattutto la cosa più importante ragazzi, iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale e poi ragazzi, commentate sotto Tra una mezz'ora ragazzi, io vado a vedere i commenti e voglio vedere chi indovina Il secondo scherzo che io voglio fare Chi lo indovina verrà salutato nel video che uscirà domani e nel video che uscirà più tardi Stanzialmente io starò fuori, starò in compagnia anche con altre tre persone o due persone ragazzi E poi ve le farò vedere nel video Mi raccomando ragazzi, che dire, ci si vede più tardi al video Commentate, io tra una mezz'ora ripasso a vedere i commenti Vediamo chi è indovinato e chi è indovinato verrà salutato nel video Ragazzi, che dire, questo è tutto e ci si vede al video che viene dopo